Un amico, un consigliere, una persona su cui poter contare sempre e comunque. Credo che per la città sia una grande perdita, come ho scritto, oggi siamo tutti un po' più poveri. È venuto a mancare un grande sindaco che ha dato tanto per questa città, che si è preso cura di Borgaro e che ha voluto bene a Borgaro e ai borgaresi. E oggi lo rimpiaggiamo tutti, sapendo che il modo migliore forse per onorare la sua memoria e i suoi ricordi è quello di continuare a lavorare come lui ci ha insegnato, con impegno, con passione e con determinazione per portare i risultati nella città. Dal punto di vista umano chiaramente siamo tutti vicini alla famiglia e non lo dimenticheremo mai.